Ma come nasce appunto la shopper che potete trovare presso il merchandising della mostra rimodigliare? La pressa è già calda, noi in maniera molto empirica prendiamo delle misure, questa è il silico, se la vuole posizionare, questi sono i punti di riferimento, metterla qui nel mezzo, cercare di centrare, poi sbattiamo, questa va centrata, è il procedimento un po' più è il calore se la non basta, un pochino più lungo, poi probabilmente va posizionata ora c'ha 25 secondi di tempo a una temperatura di 180 gradi, poi te la faccio spedicola piano piano e guardo il miracolo, dietro quella cosa viene fuori l'immagine, se ne fanno una alla volta ma il massimo cambia la qualità di stampa, attenzione che è caldo, io non c'ho nemmeno le onde, piano 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 e fa pressione sulla busta ecco qua grazie 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 grazie